La sicurezza nei punti nascita è stato il fulcro di una discussione che si è svolta a Trani, durante la quale sono stati approfonditi vari aspetti del tema, come idee per la governance e la gestione dei rischi. Responsabile scientifico della discussione è stato Danny Sivo, dirigente responsabile dell'unità operativa sicurezza e sorveglianza dell'ASLOBAT. Il focus è comprendere che dobbiamo parlare di sicurezza e non più di sicurezza, perché le possibilità di incorrere in un errore sono definite da una molteplicità di variabili davvero elevata. Possono essere problemi di natura organizzativa del lavoro, dalla carenza di personale, da problemi strutturali, da errori che possono intervenire sempre, perché anche nell'esempio che ho fatto anche il più virtuoso dei musicisti, una volta nella sua vita sbaglierà a produrre una nota nel suo strumento. Noi dobbiamo sapere che esiste la posta dell'errore, dobbiamo verificarli prima e noi cerchiamo di fare in modo che l'errore venga controllato prima che possa verificarsi.